Per quelli che sono stati i confronti, adesso dovremmo avere la partita con la Lazio, onestamente il suo divario non si è visto, poi in realtà di campionato abbiamo avuto una debaglianza iniziale come voi avete visto e purtroppo quello ci ha penalizzato molto, infatti ci ha portato a una situazione di dover rincorrere certe situazioni che potrebbero sicuramente essere completamente diversi, se avessimo fin da inizio del campionato avuto questo trend e questo comportamento che non è difeso sicuramente dalla squadra.